Aruba non sta qui fuori di Miami Beach, ma è stato esatto di Washington Avenue non è delante della Guardia di Polizia di Miami Beach ma durante il maschio, ma un settimana, un gruppo di Polizia di Aruba ha un'entrenamento speciale qui è qui da Miami Beach Police non sta qui, ma non si può parlare con noi, ma non si può parlare con noi si tratta di un corso per la Polizia di Barrio non si può parlare con un corso per la prevenzione in questo caso, ci sono stati diversi metodi per aiutare il barrio per la prevenzione del crimine non solo nella area di Miami Beach, la Polizia di Aruba è stata fatta ma anche nella Norte Miami Beach, anche in Coddle Gables, per vedere come funziona non si può parlare con l'Oficial Blanco, che conta un po' di un po' di un po' di un concetto tras di studio qui e qui che polizia di Aruba a Sinha con la lavoro di implementare BAC in Aruba Sì, la squadra del Carribe è qui e stanno insegnando di Polizia di Comunità specificamente, stanno insegnando di Prevenzione e di Prevenzione di Prevenzione per l'Enviore di Designa quindi stanno insegnando di l'allare, di programmi di Prevenzione, programmi di Prevenzione, programmi di Comunità programmi, programmi di fede, lavorano con i bambini in le scuole e questo è tutto parte della nostra Prevenzione di Prevenzione che abbiamo set up per loro So, there are 15 students from the islands here I'm the instructor from the Miami Beach side However, this week they're coming to different police departments and learning how they do community policing And everybody has a little different style perhaps a little different flavor in each department So they're here today in Miami Beach learning what we do So far it's fantastic I think you can gauge from them They're happy to be here They're learning a lot They're being exposed to a lot of modern policing as well So they're seeing our video rooms, our camera rooms They're learning the latest tech So we have a community part of the Well, part of our community policing program is a communications unit So the communications unit is teaching them how to put out the messages through Instagram and Facebook and other social media So they're learning that portion of our community policing program as well So most definitely the biggest goal is going back home is to establish community policing programs within their communities Every community is a little bit different So they're going to be going back to their community and see what works best in each community And finally, working with the kids The kids are the future So programs where the police officers are going to be working with the kids participating in mentoring and sports That's one of the goals of this program as well Of course, it's always a good trip to go out to the islands So we love that invitation back We were there earlier this year Learning how things function over on the islands And I guess the plan is for, of course, to bring more of the community policing officers through this program So they can learn a little bit of how we do things here in America Fordy Miami Beach Amita Mark Benson Dance Va Bindicuantor.com No sta e pro me deng noticia